Cosenza è il primo atto dei play-out Serie B e del Cosenza, al San Vito un gol di Nasti piega il Brescia e regala L10 alla squadra Viali, che tra una settimana avrà due risultati su tre mantenere la categoria ed evitare la retrocessione. Combattuta, in equilibrio e avvincente, la spida regala emozioni, il gol arriva nella ripresa al 70 Nasti nell'area piccola decide di testa dopo la respinta del portiere. Era di aprile un conto il Pisa che il Cosenza non ha vinto una partita. Tutto si deciderà quando il Brescia di Gastaldello proverà a ribaltare lo svantaggio.